Ragazzi ho letteralmente trovato un profumo, un'acqua profumata che sa di cinema, giuro! Cioè a momenti nemmeno io ci credo ma Lush ha saputo fare questa magia folle e il prodotto di cui sto parlando è Let the Good Time Rolls, quest'acqua profumata appunto di Lush quest'acqua profumata di Lush è andata virale tempo fa e io ho sempre desiderato acquistarla e provarla ma non mi decidevo mai, quindi un po' complice i saldi, un po' complice l'ordine che ho fatto perché avevo altri prodottini che volevo provare, ho deciso di acquistarla, raga non mi sono affatto pentita allora vi dico di che cosa sta, sono troppo esaltata, mi piace un sacco vabbè poi già qui che c'è scritto cambia musica con questa deliziosa melodia al profumo di popcorn cioè ti do già i miei soldi capite, non devi fare chissà quale magia per essere buona comunque sono 200 ml, l'ho pagato 35, non 25, penso perché sia uno dei cavalli di battaglia di Lush quindi costa un pochino di più ma raga ne vale la pena allora appena l'ho spruzzato non mi è piaciuto perché ovviamente come tutti i profumi all'inizio sa di alcol, di plastica, insomma non era un granché ma sul corpo raga, madò io ci ho dormito con questo odore popcorn bruciacchiati al caramello, avete presente quando? andate al cinema, vi dovete assorbire quei 30 minuti di trailer e sgranocchiate i popcorn però li finite, non riuscite ad aspettare l'inizio del film li finite e in fondo alla confezione di popcorn ci sono quelle palline cioè il mais che non ha scoppiettato, che è rimasto pallina ecco io una volta ero pazza, mangiavo anche quelle, poveri denti no perché mi dava gusto, mi piaceva mentre aspettavo il film vabbè ero proprio folle e sa di quello di popcorn bruciacchiato bellissimo, buonissimo, mi piace tantissimo tra l'altro guardate anche tipo questo che si deve spostare e poi voi lo sbruzzate, è buonissimo, vi giuro, buono cioè, vi giuro, sa di popcorn anche è un'altra scena che mi viene in mente annusandolo sapete qual è? adesso ve la spiego, ve la dico Coraline, lo avete visto? quando Coraline e Wyburn vanno con lo zucchero filato e i popcorn a vedere lo spettacolo dei topolini del signor Bobinski quello, cioè io entrando a casa del circo dei topolini del signor Bobinski mi immagino di sentire questa fragranza qua, raga vi giuro, vi giuro oppure in una sala giochi alla Stranger Things degli anni 80 adoro, veramente quindi vi ripeto, molto molto dolce sento anche poco poco caramè cioè, sento più il popcorn dentro la confezione che il caramello però lo sento anche quello che io adesso voglio sapere di popcorn per tutta la mia vita scusate, ma quando spendo tanti soldi per cose valide va detto è quello che ho certo Grazie a tutti.